I bisogni primari sono richiesta di soddisfazione immediata dell'organismo e hanno a che fare perciò con le condizioni imposte dal tempo presente. Quando ci si riferisce al livello addominale nella sua parte anteriore si riguardano impressioni del vissuto individuale che attendono appunto all'attualità. Ciò che è presente viene localizzato a livello addominale. Un altro termine connesso al concetto di interiorità è il sinonimo ventre, sempre latino, col quale viene anche indicato talvolta l'utero, che quando non è impegnato nella gestazione è contenuto interamente nello spazio pelvico, quindi molto basso, ma quando accoglie il prodotto del concepimento, passatemi questa locuzione gergale che è tipicamente medica, oltrepassa il limite superiore del bacino e rientra pienamente in addome. Le locuzioni a pancia piena, a pancia vuota per esempio, che si usano spessissimo nel linguaggio corrente, indicano condizioni di sazietà e di digiuno e sono utilizzate anche però per indicare condizioni di agio, di ricchezza, di sicurezza economica, la prima, pancia piena, oppure di indigenza per quanto riguarda la pancia vuota, la seconda. A questo proposito segnaliamo un'altra interpretazione etimologica che fa discendere addome non tanto da abdo, nascondere, ma da adipomen, quindi da adeps, grasso, e ne sottolinea quindi la funzione di deposito, è la zona dove si raccoglie maggiormente questo deposito. L'addome ha una mobilità molto meno evidente rispetto al torace, più segreta. L'esposizione manifesta della sua forma tondeggiante, talvolta rigunfia, indirizza l'attenzione verso la superficie, la appunta, distogliendola dalla parte interiore. Quindi l'osservatore va verso l'apparenza, assolvendo ancora meglio questo compito di preservare l'intimità, quindi il nascosto a livello addominale. Quel che avviene nel profondo del ventre riguarda l'appetito, il desiderio, le componenti pulsionali istintive dell'uomo ed è tenuto quindi nascosto quanto in parallelo invece nel torace è esibito l'aspetto virtuoso delle emozioni superiori, dei sentimenti, degli affetti esterni. Il diaframma, che si trova appunto tra torace ed addome, modula con la sua attività la ritmica oscillazione tra la dilatazione e la costrizione complementare delle due cavità, determinando la prevalenza transitoria dell'una o dell'altra nell'alternanza fra dare, ricevere, offrire e pretendere. L'addome continua inferiormente senza un confine netto, sfumando con il giro della cintola nella pelvi, in latino catino. Gli organi di questa regione sono quelli deputati alla riproduzione, all'escrezione e sono accolti nella coppa costituita dalle ossa del bacino e del sacro e chiusa in basso dal perineo, chiusa quindi in greco peraino, termino, chiudo. In questa regione si realizza l'incontro tra l'opportunità di contenere e la necessità di liberare la tensione. Il bilanciamento tra queste forze opposte, affidato al controllo volontario degli sfinteri, non è regolato da un ritmo alterno di pari durata, ma è modulato dalla sostenibilità dell'eccitazione, che esaurisce quindi l'accumulo della tensione interiore con il rilasciamento della muscolatura, prima che insorga l'impellenza. La pelvi è anche il luogo del collegamento del tronco con gli arti inferiori, dell'accordo tra la base di appoggio della colonna vertebrale e il sacro, il cammino secondo la direzione interiore e il sacro, e le articolazioni delle anche, il cammino consentito dalle circostanze ambientali, tra la necessità di un adeguato sostegno e quindi l'esigenza di indurre uno sbilanciamento del corpo per poter avanzare. Quando noi camminiamo, cadiamo continuamente e cerchiamo di rimanere in equilibrio, altrimenti saremmo fermi. Come poi sottolineiamo più avanti, la porzione degli arti, la porzione prossimale degli arti ha un ruolo importante nella componente affettiva. L'orientamento prevalentemente frontale del sistema di attenzione corporeo fa sì che alla parte posteriore del tronco, il dorso, sia associato il ruolo dell'incognito. La scarsa possibilità di accorgersi di quanto accade a tergo può favorire il timore del pericolo, del tradimento, essere colpito alla schiena è proprio l'idea del tradimento, del raggiro, dire o fare qualcosa alle spalle di qualcuno, ma può anche esprimere un volontario disinteresse, rifiuto, volgere la schiena. Procedendo nel cammino, ciò che si trova inizialmente davanti viene e finisce successivamente dietro di noi. Quindi nella rappresentazione della nostra posizione nei confronti dello scorrere del tempo, il passato, come il presente era a livello addominale, il passato riguarda la zona posteriore, la locuzione classica è lasciarsi qualcosa dietro le spalle. Alla schiena in particolare, in diretta continuazione della regione posteriore del collo, è anche associato il senso della fatica, rompersi la schiena, del carico da portare e in senso meraforico dell'impegno richiesto nel lavoro. Alla regione dei lombi, verso la fine del parte dorsale, dal latino lumbus a fine all'imbus, parte estrema, in questa regione si attribuisce alla responsabilità araldica di continuità della generazione, della discendenza, si proviene dai lombi di, una denominazione piuttosto arcaica ma che aveva un senso abbastanza preciso. Gli arti pongono il resto del corpo in relazione con l'ambiente. Gli arti superiori sono espressioni dell'agire, vedremo poi gli arti inferiori. Dalla spalla alla mano, distanziandosi progressivamente dal torace, che è la sede dei sentimenti, passiamo gradualmente dalla manifestazione affettiva, spalla, all'elaborazione concreta della realtà, braccio, avambraccio, mano. Le articolazioni delle spalle permettono di disporre gli arti all'atteggiamento dell'abbraccio, manifestazione di accoglienza, della volontà di accostare l'altro a sé, al proprio centro affettivo, cioè al proprio torace quando si abbraccia. L'insieme invece di braccio, gomito, avambraccio è espressione della forza impiegata, un'espressione classica, l'olio di gomito, oppure della libertà di movimento, della capacità di farsi spazio nell'ambiente, di affermarsi, sgomitare, ad esempio. La mano e le dita permettono invece di esprimere tutta la gamma di sfumatura dell'esecuzione, prendere, lasciare, ricevere, dare. Gli arti inferiori mediano il rapporto del corpo con il territorio. L'ampia mobilità delle anche permette la dinamica della deambulazione, quindi la progressione, che a sua volta è assicurata dalla componente statica dell'appoggio dei piedi sul suolo, la radicazione. Quindi anche qui è presente un'altra componente temporale. La possibilità di mantenere la stazione eretta, garantita dal tono della muscolatura degli arti inferiori, è indici di buone condizioni di salute, di varie capacità, di cui il modo di dire, per esempio, essere in gamba, che è un classico modo utilizzato. Nell'avanzamento l'organismo si dirige verso una meta da raggiungere, si indirizza al futuro ed è in grado quindi di conseguire un tempo successivo. L'obiettivo proposto è di tradurre quindi la speranza in realtà. Abbiamo visto i tre tempi, l'addome e il presente, il dorso e il passato, la deambulazione, quindi gli arti inferiori rappresentano appunto il futuro. In questa carrellata di lezione di anatomia mi piace sottolineare un aspetto poetico. Abbiamo visto delle manifestazioni artistiche, delle opere, in cui ringrazio la possibilità di poterle esporre da parte del maestro Marco Fabricatore e volevo concludere con un'espressione poetica di questa che è una poetessa che ci ha lasciato da pochissimo. Impropriamente cerco di raccontare questa poesia. Gli inguini sono la forza dell'anima, tacita, oscura, un germoglio di foglie da cui esce il seme del vivere. Gli inguini sono tormento, sono poesia e paranoia, delirio di uomini, perdersi nella giungla dei sensi, asfaltare l'anima di veleno. Ma dagli uomini può germogliare Dio e Sant'Agostino e Abelardo, allora il miscuglio delle voci scenderà fino alle nostre carni a strapparci il gemito oscuro delle nascite ultraterrestri. Grazie.